Toscanini è un'azienda di famiglia ormai giunta alla quarta generazione e oggi produciamo portabili. Abbiamo iniziato producendo coltelli, una produzione che sembra molto distante, in realtà abbiamo poi prodotto piccoli casalinghi fino a metà degli anni 50 per poi concentrare la nostra produzione appunto sui portabili, le grucce per il guardaroba degli italiani, prima per il department store e poi a partire da metà degli anni 90 per il mondo della moda. Negli ultimi 25 anni abbiamo prettamente fornito il mondo della moda, quindi grandi brand ed è questa la ragione per cui diciamo che Monte Napoleone, Via della Spiga e La Quinta Strada sono fin nei conti il nostro showroom. Oggi produciamo anche una collezione specialmente dedicata al cliente privato, quindi ai progetti residenziali. I nostri interlocutori sono gli studi di architettura e gli interior decorator. Produciamo portabili, abbiamo detto, grucce, in legno, sia di legno di faggio, rovere, noce canaletto, frassino, ma anche in plexiglass. È un'esclusività del tutto toscanini e siamo stati noi gli scopritori di questo prodotto. Oggi facciamo anche altri prodotti molto speciali come i portabili rivestiti di pelle oppure rivestiti di tessuto. Non abbiamo veramente limiti. È estremamente importante essere qui oggi a Suono del Mobile perché qui si celebra l'inventiva, la creatività e il buon gusto degli italiani. È un palcoscenico internazionale che ci permette appunto di farci conoscere alle grandi realtà che non si occupano soltanto di progetti residenziali, ma anche nautici dove siamo particolarmente forti. Ogni anno l'azienda intraprende tra i 50 e i 70 nuovi progetti di sviluppo, alcuni specificamente dedicati al mondo della moda, ma tantissimi dedicati al mondo della decorazione di interne. Le ultime novità sono il portavaligie singolo e doppio per le valigie che si aprono a conchiglia, sia per i progetti contra che residenziali, il portaborse per i ristoranti, il portabito con il calamite che si appende al muro, disegnato da Giulio Iacchetti e che concorre all'assegnazione del compasso d'oro. Tantissimi nuovi prodotti, abbiamo detto, tra questi anche un modello che si chiama Marcello Super Sottile. È spesso come una matita in pezzo unico e l'obiettivo era rendere estremamente leggero ma molto performante il portabito per la camicia, perché è estremamente importante, soprattutto per i progetti nautici e degli aerei privati, avere un prodotto sottile e di poco peso. Toscanini inoltre è specializzata nell'eseguire produzioni super customizzate. Siamo quindi partner degli studi di architettura quando devono realizzare un prodotto che sia coordinato con il resto della camera, quindi spesso vengono utilizzati i tessuti del cliente per fare i portabiti rivestiti, le teste rivestiti, ma anche le scatole che vengono realizzate in coordinato. Grazie.